Ciao Tommaso, ciao Chiara, benvenuti i studenti, spero che voi siate bene. Siamo qui perché vi abbiamo invitato per chiedervi un po' di cose sul vostro modo non convenzionale di vivervi le vostre relazioni. In particolare tu, Tommaso, hai scritto questo libro che ho in mano che si chiama Oltre la monogamia, che racconta della tua esperienza di un amore diverso. Visto che c'è anche nel libro e inizierei un po' seguendo l'indice, mi piacerebbe che ci introducessi che cosa cambia anche rispetto ai termini che si usano, cioè perché poliamore è diverso da poligamia, da coppia aperta, eccetera, eccetera. Si usano tantissimi termini e a volte si fa un po' di confusione, ma anche io non è che... Diciamo che poligamia forse è la prima cosa che ti viene in mente, soprattutto magari persone in una certa età, perché ne sentiamo parlare, è un dato culturale piuttosto rilevante, però si riferisce a persone che hanno più mogli o più mariti. Quindi c'è un vincolo matrimoniale tendenzialmente orientato a generare figli, quel tipo di unionista. Quindi per esempio io non posso definirmi il poligamo, non sono sposato e quasi sempre nella poligamia c'è un vincolo, quindi per esempio più tipicamente l'uomo ha molte mogli, ma queste mogli non possono avere altri mariti. Quindi di solito è unidirezionale. Ci sono poi in alcuni popoli invece anche situazioni in cui entrambe le parti di quest'unione hanno una loro libertà. Coppia aperta forse è la definizione che è più comune invece a livello pop, meno etnogratico. E' stato anche su Facebook, non so se vi ricordate, era la possibilità di mettere in coppia, coppia aperta. Open relationship. Open relationship. Voice complicated. Esatto. Che secondo me è quella che va sempre bene. Quella di solito è un euro e green, sì. E la coppia aperta di solito si intende una coppia che di fatto è monodoma, comunque ha dei vincoli reciproci, ma una coppia che decide di avere una libertà fondamentalmente sessuale, quindi di poter avere rapporti sessuali con altre persone al di là della coppia. Però questa coppia rimane comunque da tutti i punti di vista prioritaria e primaria rispetto a queste esperienze esterne che rimangono di solito anche estemporanei. A volte ci sono proprio dei vincoli, di numero di volte che ti può vedere qualcun altro, cose del genere. Poliemore è un termine che è stato neologismo di non troppi anni fa, qualche decennio fa, origine statunitense, con molte delle riflessioni riguardo a questi temi, e ha preso un po' piede ultimamente come termine sdoganato anche un po' dai media. Diciamo che si riferisce alla possibilità di avere diversi modi di relazionarsi e di avere più partner, però non vincolati appunto solo a un sesso, solo all'altro, oppure solo comunque a una delle due parti, ma potenzialmente di costruire anche relazioni anche a tre o a quattro, oppure che diverse persone abbiano altre relazioni. Io nella mia ricerca poi sono fuggito anche da questa definizione, cerco di definirmi il meno possibile, però sono arrivato anche a quella di anarchia relazionale o sentimentale, come ho portato nel sottotitolo del mio libro, che in un certo senso va ancora oltre e riporta la questione proprio a voler dire che ogni relazione fa un po' storia a sé e che quindi anche i confini tra un tipo di relazione e l'altra, tra relazioni sentimentali, amicali, forse hanno meno ragione di esistere di quanto pensiamo. Sono anche quelle un po' delle eredità culturali che possiamo mettere in discussione e poi parlarne come facciamo noi. 100 milioni di domande, ma passerei a Chiara. Sì, mi sembra legittimo, nel senso che Chiara, tu hai avuto anche dei rapporti più tradizionalmente monogami e forse la cosa più intuitiva che mi hanno da chiederti è quali sono i passaggi più complessi per te nell'approcciarti a un nuovo modo, un nuovo modello di relazione. Io ho una figlia di 19 anni e sono stata sposata e ho sbagliato tante cose nella vita, ma principalmente a non guardarmi dentro subito, perché quello che secondo me è fondamentale in questo tema e quello di cui mi piace discutere con le persone è che ha avuto un senso. Il binarismo ci aiuta, il cervello funziona così, ci sono delle strade, uno va sulle proprie esperienze e questa cosa lo facilita perché riusciamo a pensare che una determinata esperienza, siccome l'abbiamo già vissuta, andrà verosimilmente in quella cosa e questo genera delle difficoltà, come ad esempio quando incontriamo una persona che si comporta in un modo che noi conosciamo da qualcun altro e gli accogliamo addosso tutta una roba che però non è sua. Ha funzionato per un certo periodo di tempo perché le relazioni monogame, l'impostazione della famiglia tradizionale salvaguardava tante cose e quindi io non discuto quello, quello che discuto è nel 2022 e gli errori che ho fatto io sono come è possibile che non capiamo che quel tipo di relazione è una scelta, la relazione monogama tradizionale è una scelta, è una delle possibilità, se è quella che ti piace bene, ma non può essere la base, niente nella vita ha una base perché siamo tutti diversi, abbiamo avuto delle educazioni diverse, vissuto delle cose diverse e quindi la base non esiste. Quello che mi piace del discorso sulla non monogamia etica, che è il modo che mi piace di più, è che questo tipo di discorsi vengono fatti prima, ci si evita delle sofferenze irreparabili perché quello che crea il tradimento ancora nel 2022 in questa società è una ferita profondissima perché è legata al rifiuto, al sentirsi sminuiti, sentirsi sbagliati e non è detto che sia così, ma a volte è così, è molto difficile tenere in piedi, ci vuole una grandissima dose di irresponsabilità. Irresponsabilità è una parola che si fa fatica a mandare giù. Fa un po' paura. Ci fa un po' paura. Mi è molto chiaro, mi piacerebbe che facessi la cosa opposta, cioè che mi dicessi le cose che ti piacciono e io capisco, empatizzo e tantissime volte mi sono sentita così nella mia vita e ho pensato, cioè ci deve essere un modo alternativo di vivere questa cosa e poi mi sono scontrata con la realtà che è proprio quello che dici, cioè la difficoltà di prendermi questa responsabilità perché amare e farmi amare da più persone contemporaneamente significa anche che io, cioè c'è anche questo bias per cui poligamia uguale, fai quello che vuoi e non te ne frega di niente e invece al contrario, cioè devi mettere molta più cura in molte più relazioni diverse rispetto a prima e quindi per me è troppo, cioè penso, per la vita che sto facendo ora non so se potrei, cioè ci vuole tantissima energia. Tanto tempo, tanta frattura. Ma infatti io però salto un po' dalla scalezza, vado un po' alle cose che più mi piace, sono quelle che rompono le scatole ovviamente, cioè la questione che impongo io è io per trovare una persona che mi piace ci metto una vita, voi ne trovate addirittura di più e poi c'è anche una questione proprio pratica del, cioè, del tempo e non so, quindi mi sembra che la coppia alla fine abbia anche una sua praticità nella vita, nel contesto in cui viviamo, no? Cioè, come riuscite voi a trovare poi il tempo per suddividere le varie relazioni e poi anche, cioè, per come lo illusto io, le relazioni hanno un micromondo comunicativo una sorta di, e questo mondo lo si alimenta proprio come fosse il carbone nei vecchi motori, no? Che ogni tempo che passi insieme costruisce questo legame qua. Immagino che vada fatto per cinque, cioè, vada moltiplicato questa questione qua. Sì, però sulla prima cosa, cioè, in nessun modo deve diventare un obbligo, per cui se tu non incontri nessuna persona che ti fa... Sono poche le persone fighe del mondo. Questo, cioè, non ti impedisce, anzi, a maggior ragione dovrebbe dire, dovrebbe farti pensare, lascio aperta la possibilità, che poi magari non si realizzerà mai. Però il far diventare una cosa che tendenzialmente non succede, un vincolo che non deve succedere, ti fa poi parlare col freno a mano tirato a una persona con cui magari hai un inizio di intesa, però sai che non puoi arrivare lì. Poi, a seconda del tuo carattere, io, diciamo, fino a una certa età, fino a poco dopo i vent'anni, ero rigidamente monogamo, quindi quando proprio subodoravo un possibile, ma avevo deciso che ero innamorato di un'altra persona, magari manco corrispondeva, ma io ero già lì, basta, non ci parlavo nemmeno con l'altra persona. Ero così tanto monogamo. E' uno sforzo cognitivo, cioè il fatto di conoscere una persona e dire sei interessante, mi piaci, approfondiamo, è uno sforzo cognitivo, cioè è faticoso. Beh, però se sei attratto è anche un piacere. Però l'attrazione poi si basa anche sul fatto che in realtà non ti conosco, quindi ho uno spazio di fantasia, non so come dire. Anche quello. Però non ho più fatto una domanda in realtà. Vabbè, è un ragionamento interessante. Però è così, nel senso che lo stato mentale in cui ti metti, se individui questo come il tuo sistema relazionale, è banalmente di non avere il preconcetto, l'etichetta, le cose che ti consentono di andare in terza. Perché se io dico stiamo insieme, abbiamo una relazione, siamo sposati, siamo amici, ci sono delle cose che arrivano in automatico, ok? E quindi tu sai già, la macchina va in automatico. Questa cosa qua invece, in tutte le relazioni che hai, ti consente di scegliere sempre, ogni giorno, costantemente. Ti consente ma ti costringe anche. Ti consente e ti costringe a relazionarti veramente con le persone con cui hai. Quindi per rispondere a quello che tu dicevi prima, non è che necessariamente tu, se dovessi dire va bene, ok, provo a pensare di aprire la testa a questo sistema, magari non ne trovi un altro per cinque anni. Perché magari per cinque anni nessuna delle persone con cui parli ha quella scintilla in più che ti farebbe dire però sicuramente ami meglio la persona con cui stai adesso, cento per cento. Perché tante cose che invece vengono date per scontate andreste a discuterle, a sviscerarle, a viaggiarvi dentro con delle strade che non sono le autostrade che ci hanno insegnato. E quindi la scoperta, poi è ovvio che il tempo è una cosa, sì, sicuramente. Ma il tempo è l'unico problema. C'è anche questa cosa a cui io penso, ma non avendo mai sperimentato davvero, cioè proprio, ecco adesso non so neanche più che termine usare, non monogamia etica diciamo, quindi non essendomi mai data la possibilità di innamorarmi di più persone contemporaneamente, non lo so, però ho come l'impressione che un'altra barriera sia, cioè proprio il mondo in cui viviamo, cioè le città in cui viviamo e come il sistema funziona ed è costruito, perché mi sembra che tutto mi dica, devi stare con una persona, fare dei figli, cioè anche proprio a livello di tutela come essere umano, mi sento che chiaramente stare con una persona, cioè non so, il mondo è fatto, come diceva la canzone di Koetz, il mondo è fatto per due, come le confezioni dello yogurt, cioè mi sembra che sia così, quindi mi sembra che un altro ostacolo sia anche proprio che poi, cioè non è così semplice anche, e questo lo chiedo a voi, cioè sia proprio a livello di struttura, ma anche di relazione con gli altri, cioè gli altri non i partner, dico le altre persone a cui poi devi raccontare di essere questo, cioè mi sembra sempre una cosa tipo che parlerebbe prima di me, gigante, ingombrantissima, di cui mi devo prendere cura e in questo momento mi sento che non ho spazio mentale neanche per, non so, scegliere quale libro devo leggere, neanche leggerlo, capito? E quindi mi sembra un lavoro gigante e mi sembra di vivere in un mondo che non mi dà lo spazio per farlo davvero. Eh ma è così, però se vuoi è il motivo per cui al posto di farlo nel segreto della mia stanzetta o in un gruppo più o meno chiuso di persone, a un certo punto, sollecitato, anche sollecitato dall'esterno, però comunque ho deciso di mettere la cosa un po' in piazza, di scrivere, proprio perché penso che hai ragione perfettamente su questa cosa, che ci sono alcuni meccanismi, se vuoi, meno costringenti di qualche decennio fa, però comunque forse ancora in maniera un po' più subdola, sempre attivi nella società che pongono questi grossi ostacoli e quindi tu dici magari per cinque anni non trovi nessuno, ma magari trovi qualcuno che corrisponde anche ma che poi quando viene fuori un po' questa patata bollente dicono no, va bene, mi piace ma non sono pronta o pronto per affrontare questa cosa con me stesso, con amicizie, con parenti, le conseguenze di questa scelta possono essere anche secondo uno del contesto in cui vive, del lavoro che fa, delle coordinate anche spaziali dove vive. Perché c'è anche un tema strutturale, sociale, come con tutti i binarismi, anche quello di genere, la norma ti chiede adesione e quindi chi non aderisce alla norma si deve giustificare in qualche maniera, in continuazione. Adesione e devianza, sono concetti proprio di… È certo, la questione anche banale in realtà è che la madre è sempre certa, no? La madre è sempre certa, è certo. Però il potere è del padre e quindi come faccio io a far sì che sono sicuro che quello è mio figlio? Devo far sì che tu non vada a letto con nessun altro. Io ho avuto a che fare con persone eccezionali, con delle teste meravigliose e però a un certo momento c'è quello scoglietto che, ma tu sei troppo libera. Bello, no? Cioè, dovrebbe essere una cosa… E cosa vuol dire? Cos'è? Dall'altra parte della rete del tu sei troppo libera cosa sta il… E quindi io dove arrivo? Cioè che cosa? Che ganci posso… Questa è una domanda che mi sono posto anch'io leggendo e comunque vada è, cioè, è giusto considerare la libertà e l'egoismo su un piano in cui si va verso da una parte o dall'altra? Cioè come l'avete interpretata questa cosa qua? Allora, siccome un po' di sano egoismo ci vuole. Poi, nel senso, a volte per rispettare una regola che in nessun modo abbiamo deciso noi, ma ci è stata un po' calata dall'alto, forziamo il nostro sentire e quindi andiamo veramente proprio contro noi stessi e quindi questo mi sembra negativo. Poi, se invece deve trasformarsi, ah, siccome devo essere libero, posso fare quello che voglio, quindi sempre diritti e nessun dovere, no? Allora no, cioè ci vuole un equilibrio. Però in fondo, cioè, il contrario di libertà per me continua ad essere schiavitù, non altruismo, cioè non li vedo sulla stessa linea queste due cose. Sicuramente interagiscono, alzando un po' il tiro sul discorso un po' più politico, se vuoi. La libertà nell'umanità è sempre data da una collettività, quindi che richiede un altruismo, un dialogo con l'altro. Perché da soli, come esseri umani, siamo prede, no? Siamo estremamente inadatti a vivere da soli. Invece, creando dei gruppi che necessariamente partono da delle relazioni, non necessariamente di tipo erotico, ma da delle relazioni, creiamo qualcos'altro, che poi chiamiamo società, chiamiamo in tanti modi, che è in grado di rapportarsi con l'ambiente circostante e ci rende più liberi, con dei vincoli interni, ma più liberi rispetto alla situazione generale. Quindi, ma anche se pensiamo alle grandi rappresentazioni, se pensiamo a libertà come slogan, pensiamo alla rivoluzione francese, pensiamo a un gruppo di persone con una Marianna a guidarli, ma c'è un rapporto un pochino più complesso. La libertà del singolo non esiste. Mi sembra che la libertà che ti rinfacciano a te chiara è quella dell'uso interscambiabile con egoista. Cioè, come dire, che non dai a me attenzione perché sei tu che persegui il tuo bene. Sì, è quello che pensano quando lo dicono. In realtà, quello che intendono... Tu sei egoista, vogliono dire. No, è che non ti posso controllare. Cioè, non ti possiedo. Cioè, non è una libertà... Esatto. Non mi hanno dato il manuale di istruzioni per capire come fare a non sentirmi rispetto a te in un mare, così, vagolante. Perché la relazione uomo-donna in particolare, davvero non c'è il manuale di istruzione per questa cosa. In generale, cioè, per tutto quel... Il posto in cui sta andando il mondo, libero dai vincoli, nessuno ci ha dato le... e siamo passati da avere dei canoni molto rigidi a non averne più. Sì, nel giro di due generazioni. E questo, cioè... Questo è anche un problema. È un problema. È anche un problema. È un problema. Perché richiede una dose tremenda di fatica, di impegno, di autoconsapevolezza. Ma, d'altronde, l'anarchia intesa come concetto, in realtà, è un concetto molto coscienzioso. Cioè, basato su una forte... Poi, legge morale, non so come dire. Quindi, anche l'uso della proletica mi risuona in questo senso. Mi interessa moltissimo il capitolo sulla sincerità, perché, non lo so, delle volte penso che il valore morale assoluto che viene dato alla sincerità, non lo so, sia strano. Cioè, non mi sento affine a credere che la verità sia sempre la scelta giusta. Anche perché... Cioè, che significa verità? La mia verità? Cioè, non lo so, mi sembra proprio un concetto talmente tanto attorcigliato anche che, non lo so, cioè, mi chiedo come ve la gestite voi, come vi vivete il concetto di sincerità all'interno delle relazioni dove a volte è complesso sia esserlo che non esserlo. Sì, è molto complesso, anche perché, adesso non so se tu ti riferivi a questo, però il discorso spesso viene fuori rispetto al dire o non dire che si è stati eletto con qualcun altro. In realtà ci sono tantissime altre cose che in una relazione di qualsiasi tipo possono essere problematiche da dire. e quindi il fatto di dover mentire alle persone è una cosa che tendo a escludere a priori. Penso che possa generare solo cose negative. Dall'altra parte è quello di vomitare addosso alle persone a cui in teoria vogliamo bene qualsiasi cosa, qualsiasi peso di cui ci vogliamo liberare può essere altrettanto problematico. e quindi anche lì è meno dogmatico di quanto uno spererebbe. Ah, devo seguire la regoletta, quando ho capito che è la regoletta giusta o comunque giusta per me, allora sono a posto. Invece no, puoi applicare, come in un sistema così giudiziario, se sei esperta, applicare delle regole poi nei casi specifici spesso è molto difficile, bisogna tenere conto di una serie di contingenze che non si erano previste. Quindi sì, io ce l'ho ancora un po' come ossessione, quella della sincerità e della verità. Sono partito da lì molto più che dalla libertà sessuale e dal fatto di poter permettermi di essere sincero sapendo di andare incontro delle conseguenze ma non volendo giocare a quello che avevo visto essere un po'. Provocazione. Vai. A volte non è un po' cioè non so come dire, è come se si pensa sempre che bisogna dire la verità a tutti i costi, a volte dire la verità non è un po' egoista, cioè ho fatto questa cosa, me ne libero, ti accollo a te, questo sbattimento gigante, ma potevo benissimo tenermelo per me, cioè è proprio così, cioè a volte è proprio così, però d'altra parte anche tenersi, cioè se la scelta è solo quella a volte anche il tenersi dentro una cosa che poi fermenta, quasi sicuramente, e poi esplode in una maniera completamente, proprio nel posto, nel momento sbagliati in assoluto, è ancora peggio. E quindi bisogna trovare il modo di far uscire questi pesi che uno ha dentro e trovare il momento e il modo giusto è una delle cose più difficili che si hanno, io penso in qualsiasi tipo di relazione, perché poi parliamo, siamo partiti da un certo tipo di relazione, ma poi sono argomenti che si applicano a tutte. Io ho una regola difficilissima, ma valida tendenzialmente, non posso permettermi di pensare per te, perché quando viene fatto nei miei confronti, generalmente poi, molto spesso, e questo non solo in questo tipo di onestà e di ricerca della verità, se tu mi dici, guarda, per me alcune cose non sono necessarie o che tu me le dica, io posso pensare che se non te le dico poi dopo ci allontaniamo a un certo momento, ma che può essere qualsiasi cosa, ci sono tante persone che io conosco che ad esempio non mi parlare dei tuoi problemi sul lavoro, non mi parlare di questa cosa qua, non mi dire questa cosa qua, perché non c'è. Io posso pensare che sia una cosa che poi alla lunga ci allontana, ma se tu mi l'hai chiesta, io ti do quello che vuoi, perché non posso permettermi di pensare per te, perché se lo faccio anche con la migliore delle intenzioni, inevitabilmente poi si arriva a un'incomprensione di base, uno scontro che non è necessario. Dopo, molto spesso siamo convinti, io poi, che sono un'altezzosa faccia di cazzo, sono spesso convinta di sapere meglio, era la tua descrizione in profilo Tinder, di sapere meglio di te quello che è giusto per te ed è, ci ho messo degli anni per potermi fidare delle persone, questa è una questione di fiducia, cioè io mi fido al 98% soltanto di me. Se tu mi chiedi di fare una cosa che io non farai distinto, mi devo fidare di te, mi devo fidare della tua coscienza e a questo punto è lì che poi dopo ci si intreccia. Quindi se tu mi dici non me lo dire se ti sei, cioè se è una cosa di una sera non me lo dire, dimmelo se è, va bene, non te lo dico, anche se fosse per me, perché per me non è un problema, piuttosto che come questa ce ne sono tante altre. Non è un carattere un po' quasi giuridico questa cosa? cioè nel senso è scoperta cioè è come dire come se ogni clausola del rapporto fosse un po' esplicitata che poi magari è sano, cioè magari invece è giusto perché uno evita di incappare in errori contrattuali, cioè però è curioso, no? Sembra anche faticoso questo processo di negoziazione. È quello che dicevo che secondo me è più faticoso perché le regole già scritte sono là, non le devi pensare, non le devi negoziare sono quelle io sto con te, tu stai con me, non ci tradiamo, fine. Chiaramente è molto più Questa cosa qua è ancora più perché è proprio settoriale c'è tipo no lavoro, sì questo, quello, però succede sempre. Certo, ma infatti sì. Cioè lo scambio, del resto, di solito non lo si deve fare poi su più piani, no? Perché c'è quella la cosa, cioè io so che magari con il mio partner monogamo non affronti una piacere di parlare questa cosa qua, fine. Invece va riproposto poi in diversi scenari con diversi punti. Sì, sicuramente, però a quel punto lì è il tuo modo di avere a che fare con una persona nuova, di qualsiasi tipo, cioè sia che tu diventi mio amico, sia che tu diventi, cioè per dire, no, pranzo da tua mamma tutti i sabati non ci andiamo. È una scelta, è una regola che tu dai dato alla tua, non c'è scritto da nessuna parte quante volte tu devi visitare i suoceri. Una regola che magari può essere anche rimessa in discussione, sempre. Perché comunque cambiamo noi, cambiano le circostanze. Vorrei farvi l'ultima domanda e c'è una provocatoria e romantica. Come vedete le vostre relazioni d'anziani? Bella, vuoi iniziare tu. Io ci spero sempre che arriverà quella casa sulla collina e tutte le persone a cui voglio bene, i nipoti, le cose, tutto un casino di figli, una roba, guarda veramente. Guarda veramente, mi piace. anche io ho un'idea così di una sorta di comune ma non quello che mi dà fastidio un po' ai comuni che poi tendono a essere isolate e quindi diventare sette e invece il fatto che sia un luogo fisico o no aperto. Sì. Molto bello. Poi bisogna arrivarci. Grazie mille. Grazie a voi.